Promuovere la prevenzione e sensibilizzare l'opinione pubblica, in particolare i giovani, ad avere una maggiore consapevolezza sui rischi da contagio del virus HIV. Sono gli obiettivi della campagna di raccolta fondi Art and AIDS, a cura di Anlites Lazio, presentata a Roma all'Accademia di Belle Arti. In Italia, secondo l'ultimo bollettino del centro operativo AIDS dell'Istituto Superiore di Sanità, sono in terapia più di 130.000 persone affette da HIV. E' allarme per il boom di contagi nel Lazio, che è il primato del maggior numero di nuovi casi, circa 600, con la fascia di età compresa tra i 25 e i 29 anni a maggior rischio. L'iniziativa coinvolge numerosi personaggi dello spettacolo, della moda, della cultura, dell'arte e dello sport, invitati a realizzare un'opera d'arte. Tra quelli che hanno aderito ci sono Alessandro Preziosi, Patti Bravo, Filippo Magnini e Paolo Sorrentino. A tutti è stato consegnato un kit di pittura, con cui dar vita a quadri che verranno esposti dall'8 al 14 giugno a Palazzo Doria Panfili. Le opere diventeranno strumenti di raccolta fondi in occasione del consueto Charity Gala del 14 giugno, con cui quest'anno Anlites celebra il suo trentesimo anno di attività. Massimo Genzer, presidente di Anlites Lazio. Diffusa l'opinione che l'AIDS, cioè l'infezione d'HIV, che poi diventa AIDS, sia una cosa superata, una cosa mild, leggera, è falso. Esiste, è un problema e va gestito meglio. Bisogna fare in modo di portare all'attenzione della gente che il problema dell'AIDS si deve basare sulla prevenzione. Alessandro Preziosi. È divertente, soprattutto perché attraverso questo gioco si dà un messaggio chiaro rispetto al fatto che non bisogna mai abbassare la guardia rispetto alla ricerca e a spronare, a cercare di dare un segnale esemplare ai ragazzi nel proteggersi negli incontri amorosi.